Nuova sede della Questura, il Comune di Pesaro mette a disposizione due aree edificabili in zona Celletta e Torraccia. Ora la palla passa allo Stato. Tari, il Comune di Fano stanza a 400 mila euro, bollette più leggere per famiglie e imprese colpite dalla pandemia. Le domande entro e non oltre il 10 dicembre. A Fano aumenta la lotta contro i furbetti dei rifiuti. Da gennaio telecamere di videosorveglianza in altre dieci isole ecologiche della città. In otto mesi elevate circa 350 sanzioni. Esordio bagnato per Cartoceto dopo il festival, tanti visitatori da fuori regione, buona fluenza per tutte le iniziative in programma. Dopo il telegiornale il sindaco Enrico Rossi sarà nei nostri studi per una nuova puntata di Primo Cittadino. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In primo piano la sede della nuova questura a Pesaro. Con l'annuncio del sindaco Matteo Ricci, il Comune metà a disposizione due aree edificabili in zona Celletta e Torraccia. Nel frattempo l'ex intendenza di finanza verrà riqualificata con un finanziamento più corposo del previsto, ma per ricavarne uffici pubblici. Il servizio è stato curato da Angelica Panzieri. Da un lato la riqualificazione di uno spazio importante del centro storico che la città attende da anni grazie a un corposo investimento pubblico, dall'altro l'incognita sulla nuova sede della questura di Pesaro. Il sindaco Matteo Ricci ripercorre la vicenda legata alla collocazione della questura, proponendo, dopo il cambio di rotta del demanio, due soluzioni per la realizzazione della nuova sede. Si tratta di terreni che l'Agenzia del demanio potrebbe acquisire tramite il diritto di superficie dal Comune di Pesaro. Due aree pubbliche che, come ha spiegato il primo cittadino, non necessitano di varianti urbanistiche. Le aree individuate, dunque, dall'amministrazione sono una in zona Celletta, in strada Pantano-Castagni, e l'altra in zona Torraccia, in via Gran Torino. Di un bene dello Stato si dovrebbe occupare lo Stato, nei suoi vari ministeri, con l'Agenzia del demanio. Nonostante questo, in questi mesi, in questi anni, ho cercato di aiutare a trovare una soluzione, siamo riusciti ad ottenere un finanziamento rafforzato, fino a 6 milioni e 2, per sistemare l'ex intendenza di finanza. C'è stata molta lentezza da parte dell'Agenzia del demanio regionale nel portare avanti il progetto, complicazioni nate nel percorso autorizzativo, anche con l'intervento della sovrintendenza, però eravamo arrivati alla fine, finché l'Agenzia del demanio, che nel frattempo ha cambiato i vertici nazionali, ha cambiato strategia e ritiene molto più funzionale fare all'ex intendenza di finanza gli uffici come era previsto precedentemente. La buona notizia è che l'ex intendenza di finanza verrà riqualificata, forse anche più velocemente, del previsto, per farci uffici pubblici, un bene chiuso da decine di anni. La notizia negativa è che non c'è luogo per fare la sede della questura. A quel punto io potevo disinteressarmi, ma credo che ognuno deve dare la propria mano, e ho chiesto all'Agenzia del demanio se potevo dare una mano a un piano B. L'Agenzia del demanio ha approvato di nuovo sui locali della caserma, ma il Ministero della Difesa ha chiuso ancora una volta le porte, e l'unica possibilità che loro vedono è quella di terreni comunali sui quali di cedere il diritto di superficie, urbanisticamente già a posto, cioè dove terreni, dove nel piano regolatore, siano previste strutture a servizio pubblico per almeno 5.500 metri quadri. Fatta questa ricerca, che ovviamente ha stretto al minimo tutte le possibilità, sono emersi due terreni del Comune, uno vicino al Palasport e l'altro vicino al nuovo casello di Santa Veneranda, per la realizzazione della nuova questura. Se decideranno che uno di quei due terreni può andare bene, noi andremo in Consiglio Comunale e discuteremo in Consiglio Comunale sul diritto di superficie. E adesso l'aggiornamento sul Covid nelle Marche. Nelle ultime 24 ore si è verificato un decesso legato al coronavirus. Si tratta di un uomo di 89 anni residente a Vallefoglia. Tra le nuove diagnosi invece i positivi riscontrati sono 73. La provincia più colpita è quella di Pesero Urbino, con 32 casi, seguita da Ancona con 19. In aumento i ricoveri negli ospedali della Regione, che sono 6 in più rispetto a ieri, per un totale di 94. Sale sia il numero di pazienti in terapia intensiva, sia quello dei degenti in semi-intensiva. E oggi in Regione si è svolto un incontro sul problema dei pronto soccorso delle Marche, e teatro anche di recente di aggressione nei confronti di medici e infermieri. Tra i temi discussi rientrano quelli della carenza di personale e della stabilizzazione dei precari, che sono circa una cinquantina. L'assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, si è fatto promotore di una proposta di adeguamento salariale per un lavoro considerato usurante. Le stanze sono già state portate sul tavolo Stato-Regioni, per incentivare i giovani medici a intraprendere una specializzazione che sembra sempre meno attrattiva. Quest'anno, ad esempio, sono state coperte solo 12 borse per 27 posti disponibili. A breve ci sarà un ulteriore incontro. Adesso parliamo delle utenze domestiche, come la tassa sui rifiuti, perché la Giunta Comunale di Fano ha approvato una seconda manovra da 400 mila euro per aiutare famiglie e imprese. Chi avrà diritto a questo contributo dovrà presentare un'apposita istanza, perché non verrà applicato direttamente in bolletta. Dopo la manovra da un milione di euro messa in campo nel mese di giugno, la Giunta Comunale di Fano ne ha approvata una seconda per sostenere le famiglie e i settori economici più colpiti dall'emergenza sanitaria. L'operazione comprende 100 mila euro per le utenze domestiche e 300 mila per le attività produttive. Siamo riusciti comunque a poter utilizzare una parte del fondo funzioni fondamentali a disposizione di questa operazione e abbiamo individuato 400 mila euro per ripetere un'operazione di sostegno alla tassazione. Quindi andiamo a mettere in campo un sostegno sotto forma di contributo. Quindi voglio sottolineare in modo abbastanza importante che sarà necessario, sia per le attività produttive che le utenze domestiche, fare istanza, fare apposita domanda. Le domande sarà possibile farle dalla settimana prossima a seguito del Consiglio Comunale di questa settimana che dovrà, se vorrà naturalmente, approvare questa proposta della Giunta e da quel punto in poi sarà possibile entro il 10 di dicembre fare domanda per richiedere questi contributi alla tassazione. Infatti, a differenza dell'ultima volta, non verranno applicati direttamente in bolletta. Invece, in accordo con i sindacati, sono rimasti gli stessi i criteri in base ai quali vengono stabilite le famiglie beneficiarie. Quali sono le fasce previste? Le fasce previste di Isee sono la prima fascia fino a 8.265 euro e il contributo è del 100% relativo all'importo dovuto per l'Atari nell'anno 2021. Invece, per la seconda fascia, da 8.265 a 13.000 euro, il contributo è del 60% dell'importo dovuto. Chiaramente per coloro che sono in regola con i versamenti tari ed è una misura importante perché va a coprire un bisogno che registriamo quotidianamente anche noi come servizi sociali che è appunto quello del pagamento delle utenze. è una spesa chiaramente necessaria per molte famiglie bisognose e che copre appunto una parte che invece non è coperta con altre misure come quella di buoni spesa che invece copre le spese di prima necessità e i generi alimentari oppure è quella sugli affitti che abbiamo già coperto con un bando a settembre e quindi è un modo per dimostrare davvero di non lasciare le famiglie da sole e nessuno indietro. Invece per le attività economiche si fa riferimento al fatturato medio mensile del 2020 che rispetto al 2019 deve aver subito un calo pari o superiore al 20% secondo una prima stima sono circa 900 quelli aventi diritto di queste 400 sono attività commerciali il contributo infine sarà pari al totale di tributi locali i mutari, i cipi e tosap fino ad un massimo di 2000 euro per ogni singolo soggetto economico. In base a quali criteri sono state stabilite le categorie? Abbiamo voluto dare un aiuto importante e caratterizzarlo a quelle categorie che stanno soffrendo di più per fare questo abbiamo verificato anche gli open data della Camera di Commercio e quindi abbiamo deciso di andare a ristorare in questa partita i negozi di abbigliamento le calzature, le librerie, le cartolerie, le ferramenta i cinematografi e i teatri, le palestre e le piscine che sono state chiuse fino a qualche giorno fa le agenzie di viaggi che ancora non lavorano e quindi hanno bisogno di particolare supporto i banchi di mercato dei beni durevoli quindi coloro che hanno abbigliamento e attività comunque durevoli ovviamente quelli dell'ortofrutta hanno lavorato nel periodo anche di zona rossa perché lì era loro permesso poi le piccole attività artigianali quindi le piccole botteghe come i fabbri, gli elettricisti oppure coloro che fanno produzione di beni specifici e poi anche i negozi particolari quali filateria, tessuti e tende, cappelli ed ombrelli quindi negozi specifici sappiamo che queste attività sono quelle che in questo momento stanno soffrendo di più abbiamo cercato di aiutare anche con attività indirette come è stato fa non plein air con i tavoli l'aperto, tutto il mondo del turismo, della ristorazione oggi ci sembrava importante incidere e aiutare queste attività economiche ed è quello che stiamo facendo ovviamente nell'attesa e nella speranza che il Consiglio Comunale voglia approvare questa delibera che abbiamo voluto portare Oggi a Cantiano si è conclusa la seconda delle probabili sei volate necessarie per la demolizione di uno sperone roccioso che sovrasta la strada statale Flaminia e la diacente strada comunale le operazioni si sono svolte con la solita precisione e celerità ha commentato il sindaco Alessandro Piccini che ha ringraziato ANAS, i tecnici e le dite intervenute la terza volata è prevista per mercoledì 10 per circa 15-30 minuti nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 13 e adesso diamo spazio alle vostre segnalazioni iniziamo da questa fotografia che ritrae un paracarro di velto situato in via degli Alavolini nel centro storico di Fano già nei mesi scorsi era stato chiesto al comune di provvedere alla messa in sicurezza e invece ci ha scritto il reporter hanno posizionato solo il nastro segnaletico bianco e rosso e ancora pericolanti ha proseguito aggiungendo con ton ironico ora sì che in sicurezza ed è nella stessa situazione di mesi fa anche questo palo della segnaletica verticale installato in via Flaminia a Cucurano di Fano altre foto invece sono state scattate nel parcheggio dell'ex forobuario sempre a Fano dove l'asfalto è rovinato in più punti con decine e decine di buche pericolose non solo per le auto ma anche per ciclisti e pedoni sullo stato di degrado e di abbandono di quest'area vicina al centro storico il telespettatore ha commentato è una vergogna ed è problematica anche la situazione dei passeggi un nostro reporter di strada ci ha detto di averla segnalata più volte al comune ma ancora non è stato fatto nulla questo è lo scenario che si prospetta quando piove poco figuriamoci con le piogge abbondanti i passeggi sono molto frequentati ha ricordato il telespettatore anche dagli studenti dei quartieri vicini come il Vallato e Sant'Orso le fogne sono coperte di breccino ha concluso e naturalmente non svolgono la loro funzione rimaniamo a Fano perché dal prossimo anno verranno installate le telecamere di videosorveglianza in altre 10 isole ecologiche da gennaio allo scorso mese di settembre sono state elevate più di 350 sanzioni per un errato conferimento dei rifiuti a Fano aumenta la lotta contro i furbetti di rifiuti alle 50 isole ecologiche già videosorvegliate su un totale di 300 presenti in città se ne vanno ad aggiungere altre 10 nelle quali verranno installate le telecamere la gara d'appalto si è già conclusa e ora si passa all'affidamento per poi avere dal prossimo gennaio piocchi elettronici puntati sui cassonetti tra le isole ecologiche scelte per un aumento dei controlli rientrano ad esempio quelle che si trovano in Viale Kennedy via Aldomoro, in via Nazario Sauro e in località Carignano lungo la strada comunale delle Cerquelle il compito di verificare i comportamenti scorretti toccherà ai 4 ispettori ambientali di ASET coordinati da Mauro Serra che già dall'inizio anno al 30 settembre hanno riscontrato 387 violazioni in leggero calo rispetto al 2020 per via della pandemia in totale le sanzioni elevate lo scorso anno sono state 500 dopo l'attività degli ispettori ambientali di ASET che tirano giù dal girato delle telecamere tutte le fasi dove vengono le frazioni queste vengono date proprio a noi e alla polizia locale che si occupa della fase identificativa e sanzionatoria polizia locale definita di prossimità dal vice ispettore responsabile del nucleo ambientale Roberto Mango che ha evidenziato l'ascolto dei cittadini da parte degli agenti che non hanno mai tralasciato l'aspetto umano che tipo di sanzioni sono state elevate? sostanzialmente vengono elevate sanzioni sul non corretto uso dei dispositivi nel senso che o lasciano i rifiuti fuori dai cassonetti o in modo non differenziato cioè spesso non fanno a differenziare tipo carta, vetro, plastica lasciando o tutti insieme o fuori dai cassonetti come è possibile riuscire a risalire a colui che sbaglia? lo facciamo o attraverso la targa attraverso la visualizzazione dei veicoli che ci sono o attraverso anche un sistema di conoscenza delle persone perché a volte magari conosciamo le persone o anche attraverso i colleghi che si occupano delle informazioni, delle notifiche quindi abbiamo una rete poi di conoscenze tra virgolette chiamiamolo così che riusciamo a risalire alle persone o attraverso anche una serie di indagini sul territorio nel senso che se vediamo una persona a piedi e vediamo che frequentemente abbandona dei rifiuti in quella zona magari attraverso poi tutta una serie di sistemi di attivazione sul territorio riusciamo poi a risalire appostamenti eccetera eccetera riusciamo a risalire quella persona e poi a contestare l'avviazione nel bilancio illustrato oggi rientrano anche più di 1900 controlli nei confronti dei conduttori di cani e la verifica di 671 utenze in relazione al compostaggio domestico per le quali sono stati riscontrati 4 illeciti i cassonetti più sporchi invece sono quelli del verde e della plastica che per via dell'apertura più grande del coperchio sono spesso utilizzati per gettare materiali diversi le sanzioni in base al tipo di violazione vanno da 25.000 euro in caso di abbandono di rifiuti pericolosi è prevista la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni più l'ammenda da 2600 a 26.000 euro è un grande risultato perché ogni isola ecologica oltre ad essere un patrimonio economico della città è anche un luogo e uno strumento per poter rieducare la cittadinanza al corretto conferimento dei rifiuti e all'importanza dello stesso perché con i rifiuti correttamente conferiti noi riusciamo sia a riutilizzarli ma anche a riciclarli sento di fare un ringraziamento particolare ad Aset e alla polizia locale perché davvero si sono applicati con un risultato straordinario di 2871 controlli da gennaio a settembre e sono controlli efficaci che non solo interagiscono con quello che è l'abbandono dei rifiuti ma anche con tutti quei proprietari di animali che li portano che portandogli a passeggio abbandonano poi i propri escrementi e questo non va bene non va bene, cerchiamo di tenere la nostra città pulita e in salute lo vogliamo fare assieme a tutti voi e se questo serve ben venga ci sarà una grande attenzione in città e quindi chi inquina paga Continua successo del cantante fanese Davide Mattioli Repubblica cieca da oltre 20 anni dopo il tour con il suo amico Drupi con il quale si è esibito anche durante il concerto del 16 ottobre scorso questa sera sarà uno dei protagonisti di Little Big Italy lo show televisivo condotto da ristoratore romano Francesco Panella è dedicato a una sfida tra ristoranti italiani sparsi nelle capitali di tutto il mondo la puntata che andrà in onda alle 21.15 sul canale 9 del Digitale Terrestre e sul 145 di Sky sarà incentrata su Praga dove vive Davide Mattioli il quale sarà giurato e testimonia di uno dei tre locali in gara per Davide che non ha mai perso l'occasione di promuovere la sua amata Fano c'è già che ha proposto sui social come Stefano Pollegioni la nomina del fanese dell'anno proprio perché porta e rappresenta scritto la sua città natale per il mondo Cambiamo argomento a Cartoceto ieri ha preso il via la 44esima mostra mercato dell'olio e dell'oliva un esordio bagnato per il festival ma con una buona affluenza di visitatori provenienti anche da fuori regione tutti particolari nel servizio di Letizia Marchionni Taglio del nastro bagnato quello che ha segnato ufficialmente l'inizio di Cartoceto dopo il festival 44esima mostra mercato dell'olio e dell'oliva la manifestazione che dedica due giorni all'oro verde delle marche domenica 7 novembre giornata di apertura oltre ad alcuni rappresentanti della regione e dalle autorità militari la manifestazione ha visto presenti numerosi visitatori e curiosi che si sono riversati in piazza Garibaldi in tutto il borgo per degustare e acquistare olio, olive, formaggi, vini e per godersi la buona musica degli artisti che hanno animato Cartoceto come la Marching Maccaroni Street Band Tanti sono stati visitatori provenienti da fuori regione con prevalenza dall'Umbria, dall'Emilia Romagna e dalla Toscana che hanno apprezzato il borgo storico, il programma artistico-culturale e la qualità dell'olio di quest'anno che hanno potuto degustare agli stand dei produttori ed in quello del consorzio DOP Cartoceto grazie agli appuntamenti a prova di DOP il festival è stato organizzato dal comune e dalla proloco di Cartoceto e siamo presenti sul territorio con lo stand, la rosteria del teatro dove potrete degustare solo i prodotti del territorio olio, vino, formaggi, salumi, tutti prodotti a chilometro zero Sono qui per l'inaugurazione ovviamente di questa 44esima fiera ma sono qui anche proprio per testimoniare l'interesse della regione verso i nostri meravigliosi territori dell'entroterra i nostri meravigliosi borghi, i nostri prodotti tipici, la nostra cultura è un po' quello che London ci ha insegnato riscoprire la tranquillità e la bellezza dei nostri territori domani in Consiglio regionale sarà proprio discussa e credo e spero approvata una legge che valorizza i nostri borghi l'attività turistica ed economica dei nostri borghi quindi oggi è un po' una testimonianza anche di questa nuova grande attenzione della regione Marche verso il nostro meraviglioso territorio Un festival che ripropone tradizioni ma anche innovazione come testimonia allo spettacolo di videomapping ispirato alla figura del monaco artista Padre Stefano Pigini che ha vestito di colori e storie a Piazza Garibaldi Alle spalle il Monte del Peato Santo A destra il Convento di Santa Maria Sold out poi per il concerto di Chiara Civello e Rita Marco Tulli al Teatro del Trionfo che ha riscosso grande successo così come i sentieri verdi in bike e a piedi Infine i più giovani si sono riversati in Piazza 20 Settembre per i mercatini organizzati dalle scuole e gli spettacoli a loro dedicati Un programma denso, quello proposto per questa prima domenica che partendo dall'olio d'op ha abbracciato arte e no gastronomia cultura, storia e divertimento ma Cartoceto d'op il festival riserva ancora sorprese per domenica 14 novembre è possibile trovare tutte le iniziative e gli orari sul sito www.prolococartoceto.com Sono sicuro che chi ci farà visita anche quest'anno non rimarrà deluso dall'offerta di iniziative che saranno distribuite in tutto il centro storico di Cartoceto per cui vi aspettiamo qua nel nostro medievale borgo storico E oggi poi è stata approvata la legge sulla valorizzazione dei borghi storici Il presidente Acquaroli ha detto azioni trasversali per offrire prospettive concrete e di rilancio dei borghi e dei centri storici marchigiani patrimonio fondamentale della nostra identità Invece il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi sta raggiungendo i nostri studi per una nuova puntata di Primo Cittadino Segnatevi i numeri di telefono per le vostre segnalazioni Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torneremo in diretta A tra poco